Ieri mattina è stata una giornata bellissima, con i ragazzi alle 8 abbiamo cominciato a mettere tutti i lavori fatti proprio da loro con grande passione ed edizione nella cancellata, abbiamo con loro anche ripulito il parco e poi anche nelle classi sono state fatte delle riflessioni sull'evento Death for Future, è veramente un lavoro bellissimo fatto di condivisione da parte di tutti noi abbiamo collaborato anche con la signora Perrotta di Lega Ambiente che ringrazio e poi alla sera delle voci ci hanno detto che i lavori erano stati rovinati anche sono andata, sono passata personalmente davanti alla scuola e ho trovato uno scempio, un gesto ignobile, un gesto di depravazione proprio che mi ha veramente fatto star male e penso che farà star male anche i ragazzi quando sapranno questa cosa abbiamo intenzione di andare avanti per capire cosa veramente si è successo e dobbiamo valutare